Insomma Cesare c'è sempre qualcosa da dire, però è anche vero che io mi ricordo una cosa, forse era proprio il 22-23 di dicembre quando era sindaco Piccitto, mi ricordo che proprio in questi giorni fu chiamata la polizia al comune di Ragusa perché l'opposizione aveva inscenato qualcosa di incredibile protesta, era sul bilancio che poi non era stato approvato, fu fatta un escamotage politico secondo me illegale, illegittimo per rimettere sul bilancio, quindi quelli erano davvero momenti caldi oggi in verità e ben diverso. Detto questo vi ricordo che questo fine settimana per il villaggio del gusto ci sono degli orari, c'è anche un comunicato stampa ma potrete leggere sul sito, ci sono degli orari più intensi, ci sarà già sabato mattina, insomma ci sono più appuntamenti proprio per fare godere di questo villaggio del gusto e poi vi ricordo anche il Capodanno da mare, cioè il concerto di Capodanno il primo dell'anno, il primo dell'anno ma ci sarà anche una pre il 31, ma questo solo di pomeriggio non sarà un concerto, con Lello Analfino che poi sapete è il gruppo dei Tinturia e sarà davvero un grande spettacolo in serata il primo di gennaio a Marina di Ragusa, non mancate, lo diciamo a tutti quelli che ci seguono da varie parti della Sicilia, una scappata a Marina, il tempo comunque a Marina di Ragusa è sempre 3-4 gradi meno di altri posti, quindi sarà senza dubbio un primo dell'anno eccezionale, vedete con il contributo dell'Ars e dell'assessorato regionale all'agricoltura. Io vi saluto, vi auguro buon Natale, noi ci vedremo poi a questo punto martedì con Gianni Papa, vi lascio con lo sport e grazie per l'attenzione, auguri a tutti.